Ecco l'entrata in campo delle quattro squadre che cominceranno la grande mattinata di questo memorial terzo giorno dedicato alla categoria pulcini no schieratevi tutto così in ultimo quelli con la bandiera schieratevi come state nella formazione con l'albitro in mezzo cominciate qui c'è lo spazio su 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 spingete su su tutti i dritti mettetevi dritti ecco avvicinatevi ragazzi su aspetta ok vieni 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 poi più avanti qua più avanti qua ecco voi alzate questo ecco così voi in ginocchio e voi alzate va bene la stessa cosa